Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus per dare insieme uno sguardo agli argomenti in primo piano sui giornali di oggi a partire naturalmente dalle questioni che riguardano l'Ucraina con la Russia che continua con la stretta sul Donbass, continua a guadagnare terreno anche se il presidente Zelensky ha detto nelle ultime ore di essere convinto che l'Ucraina riuscirà a riprendersi questa regione e continua a spingere per poter ottenere armi in maniera sempre più rapida perché su questo secondo lui appunto si gioca questa guerra. Biden sarebbe disponibile a mandare missili a lungo raggio il che appunto come dire fa infuriare Mosca. Sul fronte della diplomazia Draghi ha chiamato Zelensky per affrontare la questione che riguarda lo sblocco del grano che si trova nei silos e nei porti dell'Ucraina ma diciamo sostanzialmente non ci sono ancora delle novità, la questione verrà portata anche il Consiglio Europeo straordinario che si terrà lunedì e martedì e sul fronte politico c'è l'intenzione di Salvini di andare in Russia per cercare appunto di, dice lui, dare una mano naturalmente questo è l'intento a sbloccare la situazione sul fronte delle trattative. Altri argomenti in prima volta sui giornali di oggi, la CEI che ha concluso questa due giorni che ha inaugurato la presidenza del Cardinal Zuppi con l'annuncio di un dossier sugli abusi che ci sono stati negli ultimi vent'anni e poi l'intenzione da parte della CEI di mettere appunto un piano appunto contro gli abusi nei confronti dei minori e delle persone fragili. Poi gli Stati Uniti con la questione delle armi in primo piano dopo la strage del Texas innanzitutto le forze dell'ordine che ammettono di essere intervenute in ritardo e c'è stata una convention sulle armi alla quale è intervenuto anche Trump, sappiamo qual è la sua posizione quindi appunto vedremo poi nel dettaglio. Allora partiamo dal Corriere della Sera, armi potenti a Kiev, ira di Putin Gli Stati Uniti preparano l'invio di missile a lungo raggio, lo ZAR è un'aggressione, nuovi bombardamenti nel Donbass la telefonata Draghi Zelensky, dobbiamo sbloccare i porti, l'accusa è Cremlino, mine nel Mar Nero Dicevamo Salvini a Mosca, pronto il viaggio, gelo del governo, Palazzo Chigi non ne sa nulla Vedrò russi e turchi, dice Salvini, oggi tra l'altro c'è un'intervista sulla stampa, poi la vedremo A proposito di interviste, sul Corriere c'è un al ministro Speranza, Conte non romperà E ancora la crisi del grano e c'è l'allarme dei profughi Ancora gli altri argomenti in primo piano, vedete questa fotografia, la strage di bambini a scuola La polizia abbiamo sbagliato, ritardi nell'intervento e c'è la bufera sul raduno della lobby delle armi A cui appunto abbiamo detto è intervenuto anche Trump La CEI, le vittime, non è la svolta sul piano di zuppi contro gli abusi E questo report appunto sui casi che verrà preparato Poi ci sono i verbali shock dell'omicidio Ziliani, l'ex vigilessa che è stata uccisa Dalle due figlie e dal fidanzato, nonché amante delle due ragazze E già una volta avevamo tentato di avvelenarla Vediamo anche La Repubblica Salvini sfida Draghi, voglio andare a Mosca L'annuncio a sorpresa dell'eghista, spiazza Palazzo Chigi e Farnesina Irritazione ai vertici delle istituzioni Il premier sente Zelensky per sbloccare il grano, scisma a Kiev e gli ortodossi d'Ucraina Tagliano i ponti con Kirill, sanzioni L'Unione Europea chiede aiuto agli Stati Uniti per superare il veto di Urban E ancora zuppi il report sui vent'anni di abusi nella chiesa Di spalla, violenza sessuale, la Spagna cancella ogni attenuante E ancora in taglio basso la convention a Houston Stati Uniti, la lobby delle armi in festa, già scordata la strage di Juvalde La stampa, eccola qui in primo piano, porti aperti per il grano Con la telefonata tra Zelensky e Draghi per cercare di risolvere la crisi E poi la chiesa di Zuppi, ma i più preti, pedofili, le vittime degli abusi Che sottolineano non è abbastanza Ancora vi dicevo questa intervista che troviamo oggi a Matteo Salvini sulla stampa Vado a Mosca, sulle pensioni non cedo, farò incontrare Putin e il Papa E c'è appunto, abbiamo detto, il gelo di Palazzo Chigi Il messaggero, piano italiano per il grano Dopo Putin Draghi chiama Zelensky Tavolo Cremlino Kiev per sbloccare i porti Gli ucraini in difficoltà nel Donbass Salvini pronto a volare a Mosca È un coro di no E poi ancora, vi segnalo dalla prima pagina del messaggero Tridico, contratti della pubblica amministrazione come quelli dei privati C'è un'intervista al presidente dell'Inps oggi sul messaggero E la fuga dal lavoro, lo Stato deve essere, dice, competitivo Non solo sui soldi E poi le novità della delega fiscale, dalla riforma del Catasto Le risorse per il taglio dell'Imu Il sole 24 ore in primo piano Premi pubblica amministrazione, scuola e sanità Ai minimi nelle agenzie fiscali, incentivi pari al 14% Insegnanti al 2, infermieri al 5 A guidare la distribuzione e la disponibilità dei fondi Più che una valutazione reale E poi fisco, prime crepe nell'accordo Salta il sistema, taglia cedolari E poi Bonomi, presidente di Confindustria Siamo coesi e guardiamo le sfide del futuro All'assemblea privata, affrontate grandi sfide E ora spingere sulla crescita Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità E vi aspettiamo subito dopo per continuare a leggere insieme i giornali Bentornati in studio, proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus Siamo all'apertura del fatto quotidiano Anche questa dedicata all'Ucraina Più armiamo Kiev e più Putin Avanza, cresce la pressione su Biden Fa il gioco di Mosca Disastro nel Donbass I russi prendono Liman e circondano Severodonetsk Washington è nato Armi sempre più pesanti Il foglio, eccolo qui E' a film di Claudio Cerasa Prove di destra draghiana E poi ancora le telefonate Non bastano affermare gli orrori russi Vediamo anche il domani Eccolo qui L'era Zuppi si apre con un'indagine dimezzata Sugli abusi della Chiesa Nella Chiesa Al termine dell'Assemblea Generale della CEI Il Presidente ha presentato un piano in 5 punti Ritenuto insoddisfacente dalle vittime Gli archivi rimangono chiusi E l'indagine promessa si limiterà agli ultimi 20 anni Il giornale Siamo una Repubblica fondata sullo sciopero nel 2021 Nonostante il Covid Una media di 3 al giorno E poi bonomiche sfiducia ai partiti Ma salva il Premier Ancora libero Ormai un'ossessione Pazzi in mascherina Il Governo pronto a prorogare fino a luglio L'obbligo su treni, bus e aerei Covid via i processi L'accusa è omicidio Ancora vediamo anche il manifesto Dedicato agli Stati Uniti Stop Gun A tre giorni dalla strage Nella scuola di Juvalde I repubblicani con in testa Trump Si ritrovano alla Corte Della Lobby delle Armi Ma fuori dalla Convention dell'NRA A Houston esplode la protesta Manifestazione nazionale l'11 giugno A Washington Dieci senatori GOP Cedono pronti a scrivere una legge Con i democratici Ancora vediamo anche il tempo Draghi vuole fare giustizia Super Mario sulla riforma Anche i magistrati hanno bisogno Di regole Pioggia di emendamenti La Lega inizia la campagna Dal Lazio tra eventi e gazebo Si apre poi la gran tax Autisti pronti allo sciopero Contro il disegno di legge Concorrenza Apertura della verità Speranza sbianchetta I rischi del vaccino Il sito dell'Istituto Superiore di Sanità Modifica la pagina Dell'iniezione antivaiola Abolita 40 anni fa Proprio adesso Che spunta un allarme Totalmente sproporzionato Sulla malattia Che arriva dalle scimmie Preparano una campagna Come quella del Covid E poi verso l'estate In mascherina sui mezzi Alla maturità di certo Mancano i tempi Per elevarla L'avvenire In primo piano Naturalmente Le decisioni della CE In rete contro gli abusi A tutela dei minori Saranno potenziati I servizi di ascolto Diocesani Si prevede un rapporto nazionale Sui casi recenti Una commissione indipendente Elaborerà i dati Degli ultimi vent'anni Zuppi ha detto Pensiamo alle vittime Nessuna copertura Diamo un'occhiata Anche all'apertura Del mattino Anche questa Dedicata all'Ucraina Mosca avanza nel Donbass La rivolta Dei soldati ucraini Allora Andiamo nelle pagine Interne dei quotidiani Partiamo dal Corriere della Sera Con questa decisione Degli Stati Uniti Rispetto Alle armi Biden alza Il tiro Putin Aggressione Dalla prossima settimana Via le consegne Dei MLRS I potenti lanciarazzi Multipli Il dossier americano Canadese I russi pianificano Un genocidio Del popolo Ucraino Leggiamo un attimo L'inizio di questo Di questo articolo Che ci dice un po' Quello che sta succedendo Gli istruttori Sono già qui Anonimi Invisibili Sparpagliati Tra basi militari E alberghi Della capitale Polacchi Ciechi tedeschi Qualcuno sostiene Anche gli americani Esperti In borghese Che dovranno Spiegare agli ucraini Ci vogliono almeno Un paio di settimane Dice una fonte di Kiev Come usare Le nuove armi E le armi Stanno arrivando Anche quelle pesanti Pesantissime Il consiglio di sicurezza americano Dato l'ok Ad un pacchetto Più ampio Di assistenza E dunque La decisione È stata presa Sempre dal Corriere Della Sera L'altro argomento In primo piano Sbloccare i porti Insieme La telefonata Draghi Zelensky Al centro del colloquio Il rischio della crisi alimentare L'Italia sicura Il sostegno In coordinamento Con l'Unione Europea Il Presidente Ucraino Torna a chiedere Più aiuti Militari Non sono ansioso Ha detto Zelensky Durante il colloquio Di parlare con Putin Ma questo sarà probabilmente necessario Per porre fine Alla guerra E invece Per quanto riguarda La questione del grano Oggi Ne Silos Ci sono 22 milioni Di tonnellate di grano E non possiamo fornirle Ai mercati internazionali Aveva detto Poche ore prima Sempre Zelensky In collegamento video Con un evento In Indonesia Secondo Zelensky Quasi la metà Dell'esportazione Di grano Ucraino È ferma Perché la Russia Continua a bloccare Le principali rotte Per l'esport Attraverso Il Mar Nero E il Mar Da Zov Questa appunto La posizione Dell'Ucraina E le vie del grano Appunto Però ci sono anche Altre alternative Che si stanno studiando I treni O il Bosforo L'austriaco Il premier austriaco Putin è disposto A negoziare Ieri i due Hanno parlato telefonicamente Ma c'è Il nodo sanzioni L'Unione Europea Serve un coordinamento Internazionale I piani appunto Per cercare Di individuare Delle rotte sicure E c'è l'allarme Da parte della FAO Proprio su questa questione La fame colpirà 220 milioni di persone C'è un'intervista A un Maurizio Martina Vice direttore appunto Della FAO Che dice Il conflitto farà crescere Il numero Di chi non ha da mangiare 6 milioni di tonnellate Di grano E 14 milioni di tonnellate Di mais Sono appunto Bloccate Nei porti E sulla questione Appunto C'è un allarme Per quanto riguarda I profughi 400 mila In Italia Per la crisi alimentare Quindi vedete Tutto in questa guerra È collegato È come un domino L'intelligence avvisa Il governo Sul rischio di un aumento Senza precedenti Dei flussi migratori La Morgese Bruxelles Mette il problema Al centro Dei suoi programmi Il 3-4 giugno Il summit A Venezia Dei ministri dell'interno Dei paesi europei E del Mediterraneo Dunque questione Grano In primo piano Ancora La visita A Parolin Nei contratti Turchi Salvini Pronto a partire Per Mosca Il leader Ha preparato Una missione Di 48 ore Via Istanbul L'ipotesi Di un volo Già domenica Ma il premier Sarà avvertito Dubbi Anche Nella Lega Lui Pace da costruire Con gli incontri Nella chat Del partito L'ex ministro Possibile Vedere esponenti Dei governi Russo E turco E ancora Appunto Lo stupore Ci racconta Il Corriere della Sera E fastidio a Palazzo Chigi Letta Che dice Idea strampalata Va dove Gli batte Il cuore Il gelo del governo Il viaggio Sarebbe quasi Un unicum Tra le visite politiche In Russia Lo sconcerto Di alcuni ministri A partire da Di Maio Si temono effetti Sull'azione diplomatica Avviata da Roma E la missione Potrebbe saltare Per motivi Di opportunità Quindi vedremo Se poi Effettivamente Si verificherà Ne parla Lo stesso Matteo Salvini In un'intervista Sulla stampa Questa mattina Su armi e pensioni Non cedo Io a Mosca Andrei anche a Kiev Dice Viaggio in Russia E gelo con Palazzo Chigi Farei incontrare Putin Con il Papa L'idea di un patto Di fedeltà Nel centro-destra È suggestiva Preferisco I programmi E ancora Appunto Diamo un'occhiata A quello che dice In questa intervista Gli viene chiesto Vuole incontrare Putin Da settimane Sto lavorando Per aprire dei canali Diplomatici Con tanti paesi Putin Ha appena parlato Con Draghi Ne sono stato felice Se andrò a Mosca Lo farò solo Se è utile E per confrontarmi Con le istituzioni russe Se devo chiedere Un cessato il fuoco Lo chiedi Innanzitutto A chi è iniziato Il conflitto Avete ancora rapporti Con Russia Unita E il partito di Putin No E non vado a Mosca Da anni Dice Andrà a Kiev Ne sarai felice Sono in contatto Con diversi Esponenti ucraini Dopo averne Ripetutamente incontrati Anche Dopo averne ripetutamente Incontrato Anche ambasciatore E console E poi dice La Farnesina Ha detto di non essere Stata informata Avvisato Draghi Qualora si concretizzasse Farò tutti i passaggi necessari E ne parlerò Prima di tutto Con il presidente Mario Draghi Questa dunque L'intenzione Di Matteo Salvini Intanto si continua A combattere Nel Donbass Massacro A Severodoniesk Città in cenere 1500 morti Distrutto L'ultimo ponte Soldati ucraini Asserragliati In una fabbrica Dunque appunto È stato detto varie volte È come se stessimo rivedendo Tutto quello che è successo Purtroppo Già a Mariupoli Fronte sud Adesso i russi Si sono ritirati Ma noi viviamo Nel pollaio Nei villaggi Liberati vicino a Kherson Sono pronti A bombardarci Di nuovo Dunque Si continua A vivere Nel terrore Anche Diciamo In questa parte Del paese E poi c'è la questione Delle sanzioni Il bando Al greggio Ultima chiamata Forniture americane Per garantire Urbane Si cerca un'intesa Con l'Ungheria L'America è pronta A vendere più petrolio Per rimpiazzare Mosca L'ipotesi di bloccare Solo l'import Via mare Questa appunto Una delle soluzioni Che si stanno cercando Per sbloccare Il pacchetto Di sanzioni E poi Ci sono gli aspetti Appunto economici Anche nei campi Il lavoro è fermo Ci rubano Anche i trattori Un giorno Con i contadini Di Kherson Le aziende Sono state saccheggiate I terreni Sono disseminati Di Ordigni E il raccolto Ha perso tutto Il suo valore Dunque appunto Anche qui La situazione È molto complessa E diamo un attimo Un'occhiata Alle questioni Che riguardano L'economia Patto impossibile Con Bonomi Che scarica I partiti I sindacati Il presidente All'assemblea privata Con 580 imprenditori Ed è tutto Per la rassegna stampa Di questa mattina Adesso è il momento Di Paolo Sottocorona Con il meteo Sì, buongiorno Questa è la situazione Delle piogge previste E dei temporali Previsti per la giornata Di oggi Perché queste zone In giallo O in rosso Indicano fortissime Quantità di pioggia Quindi essenzialmente Rovesci Temporali Parte del nord Non tanto La parte di nord-est Quanto quella di nord-ovest Con questi fenomeni intensi Che poi dalla Toscana A scendere Lungo l'Appennino Centrale Saranno appunto Presenti Più frequenti Nel pomeriggio E in questo caso Qualche temporale Qualche pioggia Tocca anche Calabria E Sicilia Meno la Sardegna Che sta uscendo Da questa zona Di maltempo Vediamo la giornata Di domani Domenica Si attenuano Questi fenomeni Al nord Ancora presenti Vicino alla Liguria Sull'Emilia Però nel complesso Sicuramente Molto meno Che oggi Ancora presenti Ma anche in questo caso In misura ridotta Fra centro e sud Sulle zone interne Sull'Appennino Miglioramento Sulle isole maggiori Arriviamo alla giornata Di lunedì In cui resta Molto poco Tempo decisamente Migliorato al sud E a metà E a metà del centro Diciamo Perché la parte Centro settentrionale A prendere parte Dell'Umbria Delle Marche La Toscana In su Ancora con piogge Ma vedete che siamo passati Al verde O al blu Cioè piogge Deboli O localmente moderate Quindi tutt'altro registro Però insomma Questi tre giorni Sicuramente qualcosa Di intenso Ci sarà Vediamo Le minime Di questa mattina Ancora Relativamente alte Ma insomma Giuste un po' Per la stagione Non sono più i valori Dei giorni scorsi Perché un ridimensionamento Delle temperature C'è stato E si sta avendo ancora E chiudiamo Con lo stato Dei mari Che sono Da mossi A molto mossi O localmente agitati Il mare di Sardegna Canale di Sardegna Mossi Gli altri mari Centro meridionali Andando verso L'Adriatico O anche sui mari Più settentrionali Come il Ligure Abbiamo Venti piuttosto deboli E quindi Moto ondoso Assolutamente tranquillo Se volete Ci vediamo Intorno alle 7.55 Adesso pubblicità E poi la prima edizione Del nostro telegiornale A più tardi A più tardi